oggi vi mostro come utilizzare le vongole al naturale direttamente dal barattolo in vetro alla pasta delle linguine con vongole già scusciate cominciamo per prima cosa prepariamo tutti gli ingredienti togliamo dalla camicia due spicchi di aglio fate conto che questi sono due spicchi di aglio piccoli potete metterne anche uno grosso intero e dopo averne eliminato l'estremità tagliatelo a rondelle come ho fatto io in video poi in una padella ho messo sia i pezzi di aglio appena tagliati che un po di olio di oliva perché esso si dovrà insaporire intanto ho tagliato le olive nere io ho utilizzato queste in quantità di 17 olive comunque circa le vongole peseranno 65 grammi e ora taglio le olive a rondelle e a pezzi dopo averle sciacquate sotto l'acqua corrente dopo aver tagliato le olive nere ho rosolato l'aglio con l'olio per alcuni minuti per insaporire l'olio poi ho messo le olive e dopo aver insaporito il tutto mescolando velocemente ho preso le vongole che ho precedentemente scolato e sciacquato sotto l'acqua corrente e le ho tuffate nella padella assieme al resto non dovranno friggere quindi mettete appena possibile un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro e un bicchierino contenente acqua e un dito di vino bianco poi mescolate lasciate che il sugo si restringa intanto metteteci le spezie io ho messo del prezzemolo secco ma se voi avete la possibilità potete mettere anche quello fresco oppure quello sul celato poi mettete il pepe nero macinato come ho fatto io e infine aggiungete dell'erba cipollina quando il sugo si è ristretto abbastanza è ora di mettere nella pentola assieme al condimento con vongole le bavette e mescolate se ne avete bisogno per mescolare meglio aggiungete un po di acqua di cottura della pasta questo fa sì che mescolare diventerà più semplice e aggiungete del sale in quantità cubi io sul finale ho aggiunto ai 200 grammi di pasta già condita anche una sottiletta che aiuta a veicolare meglio i sapori e un altro po di prezzemolo praticamente a crudo ricetta terminata like se il video vi è piaciuto e vi aspetto nel mio prossimo video ciao